ok 321 go ciao ragazzi sono sempre il boss di monopattini vi volevo far vedere appunto il super xiaomi maxi ok nei commenti fatemi sapere il tutto ovviamente adesso sto incominciando ad assemblare il motore mi arriverà tra un pochino e adesso devo rifare tutto il telaio allungarli di dietro la coda di dietro per alloggiare questi cerchioni queste gomme che sono veramente giganti il monopattino sarà 90 volt 6.000 watt e niente per nei commenti fatemi sapere adesso vi faccio vedere un attimino come è un è un coming soon però comunque poi una volta che è finito ragazzi fa spavento forse sarà il monopattino uno dei più potenti assurdi che abbia mai costruito e niente iscrivetevi ai canali che tanto ne vedete sempre delle belle vi ricordo accendete la campanella che appunto sono le notifiche non vi arrivano super xiaomi big scrivetevi anche a mondo elettrico italia che ne vedrete sempre delle belle guardiamo insieme allora come potete vedere il progetto è questo però vi faccio vedere una cosa allora inizialmente avevo fatto avevo preso proprio lo xiaomi originale ok però date le prestazioni molto elevate ho preferito prendere questo che comunque come uno xiaomi come potete vedere l'unica cosa più bella dello xiaomi il telaio perché a me il telaio che mi occorre guardate sotto al doppio traliccio qua vedete doppio tubolare e quindi è molto resistente ovviamente guardate che razza di gomme che ha sono enormi come potete vedere sono i slick da corsa quindi questo deve volare adesso qua ovviamente le ho già tagliato il telaio per allungarlo per alloggiare questo tipo di cerchione di gomma è la stessa cosa farò davanti come potete vedere queste sono gomme esagerate ci sono giganti vedete cosa sono tubeless cosa sono da gara vedete i forellini vedete poi ovviamente si allungheranno anche le forcelle perché questo andrà qua così quindi ragazzi aspettatevi una bestia umana veramente una bestia umana ok quindi il progetto piano piano prende spunto ok e questo sarà un monopattino con i fiocchi io lo chiamo comunque xiaomi perché comunque è simile quindi poi la cosa la particolarità e la comodità che qua dentro c'è andrà la centralina la centralina da 80 volt è praticamente lunga quasi come tutta la pedana arriva qua e ci sta giusta giusta dentro poi la batteria verrà alloggiata qui con lo zainetti non sono le ma tanta roba ok quindi questo è un coming soon guardate che spettacolo che poi verrà fuori una roba veramente mostruosa perché verrà veramente mostruosa verrà mostruosa ok per la leggerezza di questo telaio e la potenza di un monopattino di un motore assurdo e poi lo farò e beh poi dai se vi dico tutto adesso poi non è più bello ok nei commenti fatemi sapere ok questo è il progetto che piano piano lo sto realizzando va bene ok xiaomi big il massimo dell'evoluzione della potenza 120 chilometri orari 6000 watt il peso 20 chili di peso ok e ricordatevi che queste cose le faccio solo io mi raccomando le faccio tutte a mano io non ho nessun tipo né di stampante 3d né di taglierina al laser faccio tutto a mano con queste cose adesso vi faccio vedere vedete con queste cose con queste semplici cose io faccio tutto vedete staffe mica staffe ok quindi sono capaci tutti a farlo con la taglierina al laser con la stampante in 3d no io faccio tutto rigorosamente a ma no è funzionante bella lì per chi mi conosce lo sa bene ragazzi questo è tutto un abbraccio ai nuovi iscritti e continuatevi a iscrivere perché ne vedete sempre delle belle e poi anche perché supportare il mio canale almeno spero di farlo crescere ancora di più con il vostro aiuto ovviamente e se avete bisogno sapete che io cerco anche a distanza di aiutarvi ok ciao ragazzi xiaomi big l'evoluzione della specie ciao